Il nuovo concordato preventivo riflessioni a margine del decreto sviluppo. Questo è il tema del convegno che si è tenuto ieri al Teatro di Corte della Reggia di Caserta. L'iniziativa è stata promossa dalla redazione scientifica di Santa Maria Capovetere della rivista online della Giuffre, il fanlimentarista, e ha rappresentato il più importante incontro di studio del panorama nazionale di questo periodo. Va detto che interviene con tempestività sul decreto sviluppo barato dal governo Monti e già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno. Dopo i saluti del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capovetere Andrea della Selva, del Rettore della Suno Francesco Rossi, dell'Avvocato Francesco Buco, in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capovetere e del Giudice Alessandro Pepe, i lavori sono stati introdotti dal Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale San Maritano Enrico Caria. L'incontro di studio ha sicuramente più motivazioni. La prima, quella scientifica, è stata quella di presentare la nuova redazione locale di Santa Maria Capovetere del Fallimentarista, una rivista online edita dalla Giuffre, che si propone, mediante appunto questo strumento tecnologico, di prospettare in chiave nazionale quello che è la giurisprudenza locale. La seconda è iniziare un ciclo di studi che mai come in questo caso è stato fortunato dal punto di vista normativo perché nasceva su quelle che erano le fughe di notizie dei tavoli aperti presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia in ordine alla modifica del concordato preventivo e che ha avuto la fortuna di poter poi svolgersi il convegno appunto che si sta tenendo in questi momenti a bocce ferme in quanto il decreto legge è stato pubblicato il 26 giugno e quindi abbiamo avuto la possibilità, abbiamo tuttora disponibile la possibilità di discutere delle norme che sono state emanate dal nostro legislatore. Il dato vero è più interessante e che poiché dovrà ancora ovviamente essere convertito in legge questo decreto il decreto di cui stiamo discutendo in questi momenti, abbiamo l'intenzione di portare anche delle proposte da far valutare al legislatore con quali emendamenti in sede di conversione in legge della norma stessa.